Sio Stok Windenkinek, ciao a tutti, ciao a Italia, oggi voglio parlare del patto sui migranti targato Commissione Europea che in realtà è solo una proposta approvata solo dai paesi, evidentemente dai paesi immigrazionisti a guida con governi immigrazionisti come l'Italia, la Spagna, la Francia, la Germania e non evidentemente un accordo tra tutti i paesi europei perché ricordiamoli, i membri europei tutti all'unanimità devono approvare la riforma del trattato di Dublino, quello sulla redistribuzione obbligatoria e non volontaria e automatica di tutti i richiedenti asilo, anche quelli arrivati illegalmente che sono la stragrande maggioranza e che avvengono in Europa senza documenti validi, magari con dei barconi, dei barchini o tramite ONG dal Nord Africa, dal Medio Oriente. Ora andiamo a leggere prima quello che dice la stampa allineata italiana dell'Ovest Europeo e Repubblica è un po' un emblema di questa. Parte il titolo patto sui migranti la Commissione UE, solidarietà obbligatoria, solidarietà europea, un paradosso, solidarietà europea obbligatoria, avete capito bene. Redistribuzione o rimpatri sponsorizzati, se ne sono inventata un'altra. Sentite queste dichiarazioni allucinanti secondo me. Le persone salvate in marie dovranno essere redistribuite tra tutti i partner europei, la Presidente von der Leyen, l'Europa abbandoni soluzioni ad hoc. Poi commenterò tutte queste bellissime dichiarazioni. Oggi proponiamo una soluzione europea per ricostruire la fiducia tra stati membri e ripristinare quella dei cittadini nella nostra capacità di gestire, gestire e non fermare, i flussi migratori come Unione. Ursula von der Leyen annuncia che la Commissione Europea ha finalmente approvato la riforma delle politiche migratorie, politiche migratorie. Questi temi sono molto importanti, denotano l'agenda europea. C'è una via d'uscita per i paesi contrari alla solidarietà. Se qualche governo, tipo vicegrado Ungheria, Polonia, non vorrà prendersi carico dei migranti, sarà obbligato a gestire il rimpatrio di coloro che non avranno diritto per restare nel continente. Leggiamo una parte del tweet che tratta proprio questo argomento di Giuseppe Conte, il premier italiano, premier che non è perché non è stato votato, non è arrivato primo. I paesi di arrivo non possono gestire da soli i flussi a nome dell'Europa, la solita cantilena mainstream allineata dei medi italiani e della politica italiana globalista. Angela Merkel appare impegnata a spingere le trattative verso un successo strano. Il vicepresidente della commissione, Margarita Ischinas, ha sottolineato che il nuovo patto sui migranti è un compromesso, allucinanti queste parole, tra le diverse sensibilità degli stati membri, cosa non vera, ovviamente. Ora propongo la mia critica, ciò che dico a proposito di quello che abbiamo letto. Allora, l'Europa vuole favorire i flussi dei clandestini, questo è un dato di fatto, redistribuire anche e soprattutto gli illegali stimola nuove partenze dall'Africa e dal Medio Oriente, questo è ovvio. La von der Leyen per soluzioni ad hoc, quindi apposta nazionali, si riferisce non al sud Europa che fa entrare liberamente clandestini senza documenti validi come in Italia, ma a vicegrad, cioè a Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, per esempio all'Ungheria che protegge i confini, quell'approccio lì evidentemente. D'altronde ancora parla di gestione dei flussi, non di blocco totale dell'illegalità come per esempio fa Orban. La proposta non passerà, serve l'unanimità di tutti gli stati membri, l'ho detto all'inizio, sembra un accordo di Malta 2.0, quello che era il grande successo dei globalisti italiani. I soliti paesi gongolano nel loro immigrazionismo, tra cui anche il governo italiano, o meglio appunto chi governa i loro governi, socialisti o neoliberali, ultraliberali. Chi non vuole i clandestini deve gestire i rimpatri con la sponsorship. Sentite il globalismo inglese. Dunque i paesi che rifiutano l'illegalità sono sotto ricatto e devono rimediare, anche finanziariamente, al caos generato dagli altri, dai governi immigrazionisti del Sud Europa. Conte twitta, questo tweet che vediamo qui, la solita cosa dell'Italia lasciata sola nella gestione di un problema che dovrebbe essere europeo. Quante volte l'abbiamo sentito in questi ultimi anni? L'Italia in cambio di soldi del recovery fund, come con gli 80 euro di Renzi in passato, spalanca i porti ai confini e poi pretende di sparpagliare gente illegale clandestini per realizzare il sogno europeo di società in Europa aperte, mescolate, etnicamente. Richiama... non sentite un po' di sciorosh di Open Society, no eh. La Merkel spinge per i ricollocamenti obbligatori, come abbiamo letto. Non ci deve sorprendere questa cosa, perché lei stessa ha vinto nel 2008 il premio Carlo Magno per la cosiddetta integrazione europea, lo sforzo per l'Europa, per la Pan-Europa. L'obiettivo è la Pan-Europa federale. E quindi federale, confederale, come gli Stati Uniti, è dunque mescolata etnicamente, senza un popolo omogeneo di origine. Ricordate poi la stessa Merkel e il suo Wir schaffen das, ce la faremo nel 2015 con gli immigrati che arrivavano tutti dalla Siria, tutti profughi. Abbiamo visto come è andata a finire i risultati di quello che ha portato, i problemi che hanno portato nella società tedesca. Schinas vede la proposta come una via di mezzo tra le varie idee dei governi, le varie sensibilità. No, è volta a proseguire il piano, progetto di Soros del 2015, sostituire gradualmente i popoli europei in nome della società aperta, ultraliberale o neomarxista, chiamatevela come volete. La famosa solidarietà, questa bellissima parola, solidarietà europea, è in realtà in posizione autoritaria e non democratica di un'agenda tremenda per le nazioni europee, che non tiene conto degli elettori europei, della maggioranza degli elettori europei, soprattutto in nazioni come l'Ungheria che hanno governi nazional-conservatori. Finalizzata a creare questa agenda, terre di tutti e terre di nessuno allo stesso tempo, senza identità, senza confini, senza futuro per chi è indigeno, per i popoli europei. Andiamo a vedere Hirodo Pontu, la stampa ungherese. Quello che non vi dicono in Italia, hanno il prurito tutti i media, anche quelli di centrodestra e liberale, a parlare della prospettiva di vicegrado, in questo caso ungherese. Hirodo Pontu, l'esperto di politica della sicurezza, Orva Tioge, fa il punto su Frontex, l'Agenzia Europea di Protezione dei Confini e Gestione, che se passasse la riforma, dice l'esperto, potrebbe modificare la stessa Frontex, il sistema di protezione delle frontiere di qualsivoglia nazione, come l'Italia, l'Ungheria, eccetera. Una cosa sui ci dà. Poi i cinque giorni per l'identificazione di chi arriva anche illegalmente, come scritto nella bozza, nella proposta, è una cosa impossibile, ovviamente impossibile, da realizzare come termini i cinque giorni. Andiamo a vedere su M1, cioè su Hirodo Pontu, ma il video di M1, la televisione pubblica ungherese, la risposta a reazione di Orban e dei governi del V4 di vicegrado. Non si fa attendere ovviamente la reazione, il primo ministro ungherese, la proposta pacchetto europeo di mercoledì, cambia nome alle quote obbligatorie, automatiche, ma queste rimangono tali, delle quote. Continueremo ad opporci anche dopo questo incontro tra V4 e von der Leyen, il presidente della Commissione europea, a Bruxelles, dice il primo ministro ungherese. Mateusz Morawiecki, invece polacco, e Andrei Babiš, Repubblica Ceca e Orban Viktor, Ungheria, concordano tutti e tre su un fatto. Sono cambiati i toni, ma le posizioni rimangono lontane, inconciliabili nell'Unione europea sui migranti. Ancora Orban, nessun passo avanti, nessuno può entrare in Unione europea senza aver completato le procedure di richiesta asilo legali, quindi i vari ricorsi, i contro ricorsi, come avviene in Italia. Una persona non può starsene in Unione europea ed aspettare l'esito della domanda comodamente in UE. Il premier polacco, Morawiecki, si deve rafforzare la difesa dei confini esterni, a dire il vero nazioni come l'Italia, non difendono proprio nulla, come sappiamo. I confini sono apertissimi a qualsivoglia clandestino. Si devono aiutare i paesi di partenza dei migranti, quindi Medio Oriente e Africa. Per Babiš, quindi Repubblica Ceca, è prematuro parlare di accordo, come dice per esempio la Repubblica Prima, il patto, il patto siglato, siglato di cosa? Si è detto vicino all'Ungheria lo stesso premier Ceco, preoccupiamoci di fermare i clandestini, non redistribuirli. Questo per me è di una banalità assoluta, ma che tanti anche in Italia non vogliono assolutamente capire. Le domande vanno presentate fuori dall'Unione europea in un contesto di legalità e normalità, laddove si deve aiutare le persone a rimanere a casa propria. Non dunque invitarle in Europa, nell'Unione europea e importare i problemi, il caos, le tensioni sociali tipici del terzo mondo. Alla prossima, vi slat, arrivederci.